Ma basta tu, basta, basta, basta! Fiffa e tutti, io sono Atti di Pura Fibre delle Hane e in questo video siamo in un gameplay su Salve al Mondo. Come sapete ho creato una nuova scaletta per i video e quindi ogni lunedì vedete un gameplay su Salve al Mondo o su Fortnite Battle Royale. Chiaramente vedrò un po' quello che vi piace di più e cercherò di portare in maggioranza quello anche se vorrei fare metà e metà in modo da accontentare un po' tutti. Vi ricordo di seguirmi sulla pagina Instagram, di cui trovate il nome da questa parte, di iscrivervi al canale se non foste già iscritti e soprattutto di lasciare un mi piace per arrivare a 5.000 mi piace. Dai, ce la possiamo fare! Ed eccoci qua direttamente nella modalità Salve al Mondo e vi faccio vedere subito l'eroe che utilizzerò per questa challenge. Ovviamente il fortissimo Headhunter, Assault, Arban, bla bla bla. Quindi direi subito di continuare con la nostra campagna che mi richiede di fare il mio scudo antitempesta a livello 6. Che cos'è lo scudo antitempesta per quelli che non sanno che cos'è Salve al Mondo? Praticamente ogni zona, questa per esempio è pietralegno, in inglese si dice Plankerton, ogni zona ha una propria base che noi possiamo costruire come cavolo ci pare. Avete presente che su Battle Royale tutti vogliono farsi il proprio fortino fighissimo, bellissimo, eccetera, eccetera. Ecco, proprio quello. Però qua lo possiamo fare davvero. Ora io dovrei cambiare questi gadget perché questo non mi piace. Preferirei mettere la vita. Secondo me è mille volte meglio, anche perché tante volte finivo che avevo poca vita, quindi è meglio così. Ok, andiamo subito. Ed ecco qua la mia base. Voi direte, ma che schifo è, ma fa proprio schifo. Io vi dirò, sì, è vero, fa proprio schifo. Però ragazzi, questo è, nel senso, non sapevo giocare quando l'ho costruita, non giocavo moltissimo a Salve al Mondo, non sapevo niente di niente, ho fatto una roba a caso e infatti si vede. Cioè, ovviamente le basi future le farò molto più belle, molto più decenti e soprattutto molto più funzionali, perché questa è la funzionalità di una capra. Praticamente, questa è la nostra zona. Cosa faremo adesso? In cosa consiste questa missione? Da prima piazzare una di quelle torri gialle che vedete sulla mappa. Molto bene, possiamo andare ad attivare lo scudo antitempesta, ma soprattutto richiedere aiuto. Quindi andremo. Siamo da soli perché nessuno sfigato è venuto ad aiutarci. Intanto che qua bisognerà solo che sparare i mob, vi spiego un po'. Perché tanti di voi potrebbero trovare Salve al Mondo noioso. Allora io voglio dirvi un po' perché secondo me, uno non è noioso, due è la modalità più bella che esista. Ultimamente gioco solo ed esclusivamente a Salve al Mondo. Ho smesso un po' di giocare Battle Royale, non perché mi annoia, non perché è brutta, ma perché semplicemente ho pagato per questa modalità e la amo, quindi voglio giocarci. E mi piace davvero tanto. È una modalità che va giocata con i propri amici, questo è vero, nel senso, giocarla da soli è un po' una schifezza, ma ve lo dico, nel senso, vi annoiereste. Vediamo un po' di fare un attacco speciale in mezzo a tutti. Diciamo che su Battle Royale il tuo obiettivo è migliorare, il tuo obiettivo è arrivare primo, il tuo obiettivo è sconfiggere gli altri, ed è figo. E poi puoi crearti delle challenge da solo, puoi giocare con quello, puoi fare challenge solo con un'arma, eccetera eccetera. Il problema di Fortnite Battle Royale è che comunque, dopo un po', le cose diventano ripetitive. Non sto dicendo che mi ha annoiato, non sto dicendo... Diventano ripetitive, e non dico che qua non lo sia, non è assolutamente... Semplicemente qua hai degli obiettivi sempre validi e hai sempre delle cose da fare. Metti che devi potenziare i tuoi superstiti. Cavolo, guarda qua, ma che danni, accidenti. Ma basta tu, basta, basta, basta! Come stavo dicendo, qua gli obiettivi sono costanti, nel senso, devi potenziare un tuo eroe, perché qua si possono potenziare gli eroi, tipo questo lo puoi far salire di livello. O magari devi potenziare un'arma e quindi devi giocare in modo da ottenere le cose che ti servono per potenziare un'arma. O magari devi fare la campagna e vuoi finire la campagna per sapere come va avanti la storia. Quindi comunque ci sono parecchie cose da fare. Quindi sì, se uno compra il gioco solo per fare i V-Bucks, lo trova noioso. Tuttavia, io non lo trovo noioso e anzi, vi dirò di più. Qua tu produci i V-Bucks e puoi comprare i lama. I lama ti fanno trovare gli eroi, ti fanno trovare le armi, ti fanno trovare un sacco di roba. Ragazzi, io vi dico, io ormai ho smesso di spendere soldi, cioè, V-Bucks per le skin in Fortnite Battle Royale, ma li uso tutti, tutti per comprare lama su Salve il Mondo. Mi piace di più. Ho scoperto che mi piace molto di più questa modalità per spendere i V-Bucks, ecco. Piuttosto che spenderli su Battle Royale. Tantissimi, anch'io tra l'altro, avevo comprato questa cosa per giocare proprio a Salve il Mondo in modo da prendermi i V-Bucks e mi annoiavo. Non ci giocavo mai, perché ragazzi, è veramente noioso giocarci solo per fare V-Bucks. Vi annoiereste e non ci giochereste dopo un po'. Invece, se voi utilizzate questa modalità apposta per... Aspetta un attimo, che qua stanno diventando parecchio rompicavo. Muori, 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 muori. Muori, 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 muori. Perfetto. Il problema sono questi qua. Oh cavolo! Ma è aperto questo coso! Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Ma è aperto questo coso! È aperto! Non me ne ero accorto. Era aperto il generatore, potevamo perdere tutta la missione in due secondi. Ma che cavolo! Beccatevi questo, accidenti. Eh, guardate che stanno diventando dei pezzi duri. Più avanti vado, beh, chiaramente, più avanti si va e più gli zombie diventano tanti duri e rompi. Ma non è possibile, cicciono beso. Troppo McDonald per te. Allalalalalala. Amo questa pistolina perché veramente la cosa di propagazione dei colpi è qualcosa di fighissimo perché io sparo lui e vedete che prendono danni anche quelli vicino. Guardate, guardate bene. Guardate bene come i colpi vanno anche a quello dietro e così via. Più nemici ci sono e più i colpi si propagano. fighissima come cosa. Che poi volendo io vi posso portare molti più video di Salve al Mondo se voi lo desideraste. Io ho creato una scaletta per fare comunque un video al giorno e in modo comunque da avere un programma ben definito. Ma se voi vi piacciono Salve al Mondo, se vi piace sentirmi parlare a caso comunque, anche perché su Salve al Mondo posso parlare molto di più che su Bat Royale proprio perché la concentrazione richiesta è molto minore. Quindi è molto più facile giocare appunto a questo. No! No, 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 le bombarole. Le bombarole no va bene. Le bombarole. No, 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 no. L'unica cosa che non voglio sono le bombarole. Benissimo, la pistolina che va a danni a tutti. Eccole qua, le bombarole le vedete che lanciano i teschini. Ecco, quelle non vanno bene perché non vanno bene. Dai, 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 dai. Morite tutti, morite tutti. Morite tutti. Pistolina. Eh no, basta. Cioè, devo sparare con la pistolina altrimenti qua crepo. Beccatevi sta granata, finocchi. Fatta, ragazzi, non so come ce l'ho fatta questa, è veramente difficile. Figuriamoci quella dopo. Minigun. Che tensione, qualcuno dice che è noioso sto gioco. Voglio vedere voi che sono in tensione totale. Non faccio le facce che faccio Fortnite Battle Royale perché vabbè, qua non è poi così devastante. Accidenti, guardate che difficoltà. 58 secondi ancora. Curiamoci. È molto importante questa pistolina. Senza questa pistolina non so come farei, veramente. Non ho la minima idea di come potrei fare. Ce l'ho fatta anche da solo. Chiaramente se fossimo stati in quattro sarebbe stata una cavolata. Cioè quattro tipi che sparano è una cavolata da fare da soli. È difficile, ve lo dico, è davvero impossibile giocare a questo gioco da soli a meno che non avete armi OP. Quattro lama, un miliardo di esperienza, eroe, che mi serve un sacco e 100 V-Bucks per aver completato questa missione. Il che non è male. Infatti come vedete ho 4.345 V-Bucks giocando un sacco a salvare il mondo e voi direte sì ma vai a comprare tutte le schiene invece no, mi compro tutti i lama che ci sono. Mi compro questo lama qua, mi compro questi. sono lama veramente fighissime e io mi li compro. Allora, allora, allora. Come abbiamo visto io voglio potenziare un sacco questo costruttore per chi se ne intende. Voglio portarlo almeno a livello, beh sì, a livello 30, mi manca relativamente poca esperienza e sto farmando esperienza di eroe apposta per portarla al 30. Con questo evento veramente ho trovato cose fantastiche con l'evento di compleanno. Ho trovato questa che secondo me è fighissima. Cioè è un eroe che potenzia le pistoline e siccome io ho quella pistolina che è fortissima voglio proprio potenziarla al massimo per poterla sfruttare al massimo la pistolina e poi c'è lui che è il costruttore migliore in assoluto di tutto il gioco secondo me perché fa danni con la base quindi voi state lì la base fa danni da soli voi vi tenete le mani incrociate e guardate il nulla perché tanto la base fa danno da solo il che è fighissimo secondo me è un tipo di gioco dove tu stai là guardi costruisci trappole è figo secondo me uccidere gli zombie solo con le trappole tu non devi fare nulla è la cosa migliore in assoluto comunque vediamo la prossima missione Plank Off riuscire a fare complete the rocket in una missione 40 più in pratica questa è la missione che ci porterà da Plankerton a Kenny Valley che è tipo in italiano sarebbe non è Montespago non è tavolaccia non è pietralegno va allarguta va allarguta ma prima direi di aprire questi quattro lama vediamo un po' che succede allora 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 ta 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 esperienza delle schematiche non mi serve oro non mi serve i fucilieri mi servono perché effettivamente quelli là si trasformano in esperienza eroe quindi esperienza superstiti non mi serve non fucilieri esperienza eroe molto bene dai facciamoci no dai che schifo esperienza superstiti superstite trappola schifoso e andiamo avanti purtroppo niente di che alla fine niente di che anche oggi ringraziamo la pura fibra della nostra non qua grazie mille per essere iscritti noi siamo già in 158.000 cresciamo sempre di più commentate con quello che ne pensate voi di questo video vi piace salve al mondo oppure no e perché soprattutto lasciate un mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao